Il nuovo edificio scolastico Costanzo Ciano è inaugurato dal ministro Bottai. L'edificio contiene le scuole elementari con 698 alunni, la scuola di avviamento professionale con 120 allievi, la scuola serale artigiana con 132 allievi, i locali per la direzione e le biblioteche e i rifugi antiaerei capaci di 1200 persone. Le aule sono anche corredate di una perfetta attrezzatura radiofonica. Qualche sguardo durante le lezioni, l'aula di cucito e ricamo della scuola d'avviamento, tra gli allievi delle elementari durante il dettato. Allievi della serale, lavorazione pratica per orati, gioiellieri, incisori e gesellatori. Roma, Foro Mussolini. Si inaugura solennemente il quattordicesimo anno scolastico dell'Accademia della Gioventù Italiana del Vittorio, alla presenza del segretario del partito e del ministro dell'educazione nazionale. Dopo il saluto al luce, il magnifico rettore e senatore Nicola Pente legge la pronunzione inaugurale. Grazie. 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 Grazie.